benvenuti picciotti sono stulo e oggi siamo in questo video il mio classico video che faccio ogni natale per appunto augurarvi buon natale allora 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 camicia o solamente questa che ricordi un po natale perché è rossa comunque abbastanza con colori rossi caldi colori del natale cappello non trovavo il mio classico cappello di babbo natale che non so che fine abbia fatto quindi mi sono messo questo che è un cappello comunque puccioso che potrebbe ricordare la neve con grande grande grandissima fantasia però la ricorda non è la mia classica tenuta da natale che sinceramente non mi ricordo neanche qual è quella che avevo l'anno scorso però questi sono dettagli questo è il mio terzo notale che passo su youtube e spero abbiate passato comunque una vigilia di natale la sera della vigilia che poi sarebbe quello il vero natale e poi 25 che il giorno effettivo del natale bene con le vostre famiglie divertirvi a mangiare a bere ubriacarvi più e poi spero che passiate anche un buon capodanno io che praticamente fino a settimana scorsa pensavo di dover lavorare a capodanno invece signore e signori non lavoro sono libero capodanno libero quindi vado in liguria con leo conoscete leo quello dei video di fifa quello che avete visto più sul canale molte volte e niente andrò con lui in liguria a varazze farò lì capodanno non so ancora quando parto e non so ancora quando torno però penso di tornare lui perché poi se come vi ho raccontato nel video di nell'ultimo video blog penso sia l'ultimo ho trovato lavoro quindi devo lavorare però capodanno capodanno il 31 e lo siamo via divertirsi e a sbocciare più bottiglie che riusciamo fino da veramente a collassarci a distruggerci sul divano da qualche parte del letto comunque 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 anche questo è un video blog abbastanza corto perché appunto solamente per augurarvi buon natale e buon anno e buon vabbè santo stefano e buon tutto quindi più di niente questo video di natale che si appunto il giorno di natale 25 tutto e vi ringrazio per la visione vedere se vi è piaciuto commentate iscrivetevi al canale se ancora avete fatto e noi ci vediamo un prossimo video